Giacomo Stucchi, la giornata di oggi si è contraddistinta per due grandi tematiche. La prima la dichiarazione di D'Alema, la seconda Veltroni che torna sul tema della casta e gli sprechi in politica. D'Alema dal sud fa sapere che se vince il PDL e la Lega il nord sarà, meglio il sud, sarà governato da un partito del nord, un partito che definisce straniero. Beh, almeno fosse così, nel senso che se fosse veramente così la padania sarebbe già indipendente, ma ahimè così non è. Quindi ci sarà al governo un partito, un movimento politico come la Lega Nord, come lo è stato dal 2001 al 2006, che difenderà gli interessi della gente del nord all'interno di un contesto statale unificato, naturalmente tenendo in considerazione quelle che sono le esigenze dei propri elettori, che ritengono comunque di vedere tutelati i propri interessi dando il consenso alla Lega Nord. Credo che l'affermazione di D'Alema si commenti da sola, si tratta di paura elettorale, si tratta di un modo di fare del terrorismo politico che non può essere condiviso e accettato. Stucchi, vogliamo ricordarlo quando D'Alema disse che la Lega Nord era una costola della sinistra e ora cambia diametralmente il pensiero. Beh, io ero presente a quel congresso della Lega Nord quando dopo la fine del primo governo Berlusconi, D'Alema venne a dire che la Lega è una costola della sinistra, la Lega è una forza democratica, la Lega è una grande forza che aiuta tutto il Paese. Ha cambiato idea, ha cambiato idea in modo clamoroso, ma lo fa soprattutto in modo strumentale e questo è inaccettabile. Stucchi, come si diceva il secondo tema della giornata politica, Walter Veltroni che torna sul tema della casta, sul tema degli sprechi in politica, però il Partito Democratico che sostiene il governo Prodi non votò la riforma che la Lega concepì per tagliare i costi della politica. Sì, non solo non fece votare i propri elettori il referendum, al referendum dando un voto favorevole alla riforma costituzionale fatta dal centro-destra e voluta dalla Lega con la devoluzione che prevede anche la riduzione del numero dei parlamentari. Ma oltre a questo, alla guida delle Camere con Bertinotti, la Camera dei Deputati e Franco Marini al Senato, si è vissuta la moltiplicazione dei gruppi parlamentari, 51 gruppi parlamentari tra Camere e Senato, che vuol dire maggiori costi per la politica e oltre a questo dobbiamo anche ricordare che il Partito Democratico, il cui Presidente si chiama Romano Prodi, è anche quel partito che ha fatto e ha partecipato e partecipa tuttora al governo che regge questo Paese con il record mondiale dei sottosegretari e dei ministri, 103. Credo che queste siano la testimonianza di come Veltroni predichi bene ma razzo di male. Veltroni dunque va avanti a copiare il programma degli altri? Veltroni tenta miseramente di copiare gli altri ma soprattutto dice delle cose che non stanno nel cielo e in terra perché comunque è disperato e cerca un giorno di raccogliere dei voti dicendo una cosa avarese e dicendo il contrario magari in altre realtà del Paese. Credo che non sia questa una politica seria, un modo di fare politica seria.